A ExpoGate qui a Milano ci troviamo qui in questo bel contorno per raccontare che cos'è Orange Fiber. È una start-up incubata da Alimenta che organizza questa giornata in cui incontriamo questi giovani che hanno creato start-up e nuove aziende a carattere agroalimentare. Ora presentiamo Orange Fiber, sono qui con Enrica Arena e Adriana Santanocito. Cominciamo con Enrica che ci racconta che cos'è questa azienda che è stata appena incubata da Alimenta. Orange Fiber è un'azienda per la creazione di un tessuto sostenibile e vitaminico dagli scarti degli agrumi. Nasce due anni fa da Unidea, è stata costituita a febbraio di quest'anno e siamo qui per presentare il primo prototipo di tessuto dagli agrumi. Quindi scarti, soltanto scarti, non utilizzate la parte succosa del frutto che ovviamente serve per l'alimentazione. Noi prendiamo quello che resta dopo la spremitura e l'estrazione degli oli essenziali e che altrimenti dovrebbe essere smaltito. Quindi di fatto la buccia è la parte bianchiccia della pelle. Sì, esatto. E invece Adriana ci racconta, ci fa vedere, anzi ci mostra il filato. Allora, questo è il nostro primo prototipo di filato da agrumi. Il nostro tessuto è comunque un tessuto sostenibile e vitaminico. Noi puntiamo su questi due valori per lanciare il tessuto. Quello che presenteremo oggi sono due sviluppi di tessuto, uno che è un raso fatto appunto agrumi e seta e l'altro che è un pizzo agrumi e seta, quindi dopo ve li mostreremo. Allora, andiamo per punti. Il fatto che sia arancione è una coincidenza o mantiene il colore originale? No, allora, il fatto che sia arancione l'abbiamo voluto, l'abbiamo voluto noi, l'abbiamo sviluppato in arancione e in giallo proprio per richiamare i colori degli agrumi, infatti in onore siamo anche vestite di giallo e arancione. In realtà si potrà realizzare con tutti i colori, diciamo, a disposizione. Ma quando vedrete lo sviluppo del tessuto dopo, vedrete che comunque è un colore naturale il raso e il pizzo è un bianco e nero, quindi si può fare di tutto. E quando intendi fibra vitaminica, che cosa intendi? Esatto, la fibra vitaminica intendo un tessuto cosmetico, cioè noi applichiamo al tessuto delle microcapsule che rilasciano gradualmente gli olistenziali di agrumi e funzionano come una crema cosmetica sulla pelle. Quindi, spiegaci bene, una camicetta o una maglietta potrebbe in realtà essere in qualche modo emolliente ed essere in qualche modo avere in sé già la crema emolliente che invece ci applichiamo di solito dopo la doccia. Esatto, e senza la fatica di applicarla dopo la doccia perché ti metti la camicetta. E con i lavaggi come lo mettiamo? Ma resiste a 10-20 lavaggi. Ecco, e poi cosa succede? In qualche modo, diciamo, è usegetta, nel senso che va gettata, quindi ha anche dei costi, eh? Oppure avete pensato a qualcosa? La maglietta resiste, non succede nulla, perde semplicemente le proprietà vitaminiche. Ok, a che punto siamo del progetto? Stiamo lanciando il tessuto e andremo in produzione prestissimo. Quindi siete alla ricerca in qualche modo di partner industriali che vogliono in qualche modo produrre le vostre magliette, i vostri abiti? Sì, partner industriali e brand di moda che vogliono lanciare con noi le prime collezioni. Va bene, allora ripetiamo bene i contatti, dove vi possono trovare? www.orangefiber.it Bene, ragazze, in bocca al lupo!